Anci presenta le esperienze di innovazione che le città italiane stanno realizzando attraverso il programma Urbact, che è il principale programma europeo di finanziamento dello sviluppo urbano sostenibile. Oltre 25 città italiane sono attualmente coinvolte in reti tematiche europee del programma e lavorano su una varietà di temi che mettono assieme attori locali, seconder e tutti coloro che sono coinvolti nei processi di cambiamento urbano. La particolarità di Urbact è che non si agisce soltanto per il recupero degli spazi nei centri storici, se non delle aree militari dismesse, ma si interviene molto fortemente sui processi di partecipazione che sono parte integrante dell'azione di scambio locale e internazionale del progetto. Grazie a Urbact le cittadiane stanno sperimentando dei sistemi innovativi di governance e dei processi urbani che credo possano essere importanti da diffondere anche nelle città che non partecipano al programma e soprattutto realizzano dei piani di azione locale con degli interventi concreti e precisi che si spera possano diventare poi parte delle politiche regionali del futuro.